Arrivi azzerati da Russia e Bielorussia e il rischio che il combinato disposto delle incertezze della guerra e dei prezzi dei carburanti facciano precipitare la voglia di vacanze anche negli altri paesi. Non sono rose le previsioni sulla stagione turistica alle porte in Toscana. Dopo due estati a singhiozzo, gli operatori del settore confidavano nel 2022 per agguantare la ripartenza. Invece, con ogni probabilità, per tornare ai fasti del pre-pandemia, si dovrà attendere ancora. La preoccupazione emerge da uno studio realizzato dall'assessorato regionale al turismo guidato da Leonardo Maris. Due gli scenari ipotizzati. Uno, quello più ottimistico, prevede che l'atteso rimbalzo del turismo di quest'anno sarà sterilizzato dallo scoppio del conflitto, con un aumento di visitatori nella regione che si ferma ad un più 26%. L'altra, prospettiva, quella più cupa, ipotizza invece una crescita zero rispetto al 2021. È evidente che il turismo russo, al di là dei numeri delle presenze, vanta una capacità di spesa non comune, ha osservato il presidente toscano di Federalberghi Daniele Barbetti. Si tratta di un motore economico rilevante per tutta l'economia. Penso a città come Firenze, alla Versilia e all'Argentario. È d'accordo anche Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscano. L'entusiasmo di inizio anno si è già raffreddato, ha affermato Cursano. Senza un cambio di rotta, le famiglie avranno meno denaro da investire nel tempo libero e in molti casi anche meno voglia di farlo. Per Cursano, lo stop agli arrivi dalla Russia potrebbe rappresentare un grosso danno anche per Firenze. La città non riparte con migliaia di turisti che poi mangiano un panino. Bisogna intercettare chi ha capacità di spesa. Quella di un visitatore russo ha concluso. In media è dieci volte superiore di quella di un italiano.